Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un try on haul, ovvero vado a provare tutti i vestiti che ho comprato, dato che la settimana scorsa sono andata a fare degli acquisti da Primark. Infatti qui con me ho due gigantissime buste di Primark. Per prima cosa ho comprato questo pigiamino, che mi serve per la casa in Italia, quando andrò quest'estate. Questo qui in particolare è stato un regalo. Mi piaceva molto la trama, mi sembra molto estiva, mi piacciono molto le righe e mi sembra anche molto fresco come il pigiama. Di solito i pigiami hanno un cotone molto rigido che non mi piace. Questo qua invece l'ho trovato subito confortevole al tatto e quindi l'ho preso. Ci sono anche altre colorazioni, ma non tutte hanno lo stesso cotone. Infatti ce n'era un'altra che mi piaceva, che era bianca con i pallini, però quello là aveva appunto questo cotone rigido che non mi piaceva. Non lo so, questo mi sembra più adatto per una vacanza italiana. Comunque andiamo avanti. Poi ho comprato queste scarpe, che hanno questa particolarità, ovvero la fascia che va davanti al piede trasparente. E mi piaceva molto. E mi piacevano perché hanno un colore molto tenue, che mi sembra adatto per varie occasioni. Stanno bene anche sotto un jeans. Mi sembrano anche molto comode perché il tacco è largo. Allora l'ultimo pezzo della mia vacanza è il bikini. Strano ma vero, ma io non avevo nessun bikini. Poi l'ho preso nero perché penso sia un colore che non mi stufera mai. Boh, mi sembra un sempreverde e un pezzo che dentro il proprio armadio era doveroso. Qui ho una serie di magliette che ho comprato per Alessandro. Le magliette da Primark le ho provate anche io e le uso come canottiera. Nel reparto uomo ho preso la XXS per me, per Alessandro la L. Comunque questa qua è una L. In realtà ci sono due tipi di magliette, quelle che costano 3€ e quelle di un cotone un po' più spesso, che costano 4,50€. Io ho preso un po' un mix perché così poi Alessandro potrà decidere. Sempre per Alessandro ho preso questi pantaloncini qui. Prima di parlare del prossimo acquisto voglio fare un momento story time. Per me è sempre difficile trovare dei jeans adatti. Una volta però, tipo tantissimo tempo fa, ho trovato dei jeans che erano la vita, per me li mettevo ovunque. In una svendita di Piazza Italia, non so se conoscete questo negozio ma comunque stiamo parlando di tantissimi anni fa. Io per anni e anni ho portato questi pantaloni non sapendo che fossero pantaloni mom jeans e mi sono comprata questi pantaloni qui. E mi stanno comodissimi, cioè veramente stanno troppo comodissimi ed è un materiale jeans, sapete quel jeans che è rigidissimo? Quello è un po' scomodo, questa è una via di mezzo che non è né troppo rigido ma neanche un elastico che sembra leggings. Ho comprato questa colorazione, questa colorazione e anche questa colorazione. Quelli nella tonalità grigia purtroppo mi vanno un po' più larghi, non so da che cosa dipenda perché è sempre la stessa taglia. In ogni caso, essendo che mi andava un po' larga, ho comprato questa cinta. Ho preso questa qua anche perché ho pensato che potesse stare meglio con questo qui chiaro. Un'altra cosa che volevo comprare era un dolce vita, tipo questo, però a costine. Magari metto una foto da qualche parte. Quindi, dato che ero lì, ho detto vabbè non me lo compro anche di altri colori, sempre per lo stesso motivo, perché io compro una cosa di mille colori diversi. Sono andata e non c'era. Fa ancora freddo, quindi perché toglierlo? Per fortuna sono riuscita a trovare questo, che non ha il colletto alto che si piega come quello che porto adesso indosso, ma comunque mi piaceva che era molto accollato. Questo non è pesantissimo, non è proprio invernale, per questo mi piace. Penso che sia proprio un capo che puoi mettere tutto l'anno, perché d'inverno ci si può mettere una maglietta sotto, una maglia termica, una canottiera, anche una giacca sopra se si vuole vestire pesante. Oppure nelle mezze stagioni, questo qua va benissimo anche da solo. Quindi questo secondo me è un must have. Ho comprato questa felpa qui, è felpata, quindi è pesante. Ho una felpa per casa e quella che avevo prima ha una macchia e non riesco a toglierla. E purtroppo, cioè, la posso sempre mettere per casa, però mi piacerebbe avere durante una giornata una cosa che se io dovesse uscire per fare qualsiasi cosa, qualsiasi commissione, non ho questa patacca qui. Quindi ho dovuto comprare un'altra felpa. Probabilmente metà del mio armadio è questo shopping. Ultimo, ma non per importanza, forse sì per importanza, perché è un accessorio, mi sembra molto versatile per varie cose. Lungi da me voler alimentare il fast fashion, ok non si direbbe perché ho comprato tante cose da Primark, ma sono acquisti che io ho fatto consapevolmente. Penso capi sempreverdi che voglio tenere nel mio armadio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono i miei contenuti vi invito a lasciare un like, un commento oppure iscrivervi al mio canale. Per adesso comunque vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!